Nuovo obiettivo! L'inverno sta arrivando! Cosa vorrà dire? Cosa vorrà dire visto che qua non ci sono le stagioni? Buongiorno signori, benvenuti all'altro episodio di Anno 1800 Io ovviamente sono qua sulla mia bella isola Mike Town, tengo tutto sotto controllo Però, attenzione Ho scoperto che mi manca qualcosa Ho una carenza, lo so Non è da me, non è da me Però Vi posso dire che ho una carenza Allora, poche parole A Amarvik dobbiamo fare una cosa chiamata Cappano di caccia Non è un bel nome, non è una bella roba Però dobbiamo farla perché così ci espandiamo Diventiamo molto potenti E per farlo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo mettere giù i campani nella caccia Il campani nella caccia, per non sapere già scrivere il buon caro Mike Li metterà a qualche parte tipo così, deve essere in mezzo ai boschi Per quanto mi riguarda Quindi, tipo uno qua Uno qua Uno qua E in quanto tempo ci mette? Ma qualche c***o Smettete di attaccare Volevo per mia balle Distruggete sta merdina Naggia loro Nel frattempo siamo in guerra con Willy E ovviamente non è che ci stanno andando tanto bene Perché ste navi sono scarsa come la fame Sono due navi contro una Non riesco ad affondarla Dai bello Su, un altro colpetto Siamo nelle fasi abbastanza, come dire Finali del gioco Visto che siamo nelle fasi finali La gente si amala come niente, no? Però noi mobilitiamo ovviamente ai dottori Quando c'è l'epidemia esplode così in dieci case contemporaneamente Succede, succede Oh, una nave tornata finalmente Con un po' di rum Perché viene fuori, miei cari signori Che ci mancano Alcune cosucce A parte l'influenza che è sempre negativa Ci mancano alcune cosucce di base Ci mancano Gli abiti di pelliccia Finché gli artigiani diventino di categoria superiore Ed è quello che faremo in questi episodi Così qua iniziamo ad accumulare le pellicce Io potrei fare direttamente su quest'isola Senza incasinare ulteriormente la mia isola principale Anche quella che è la parte del mercante di pellicce Che appunto mi produce le pellicce Però mi servono gli artigiani E allora devo per forza farlo dall'altra parte Chiaro? Bene Quindi qua facciamo le pellicce Dove prendiamo il cotone? Il cotone lo prendiamo nell'altro mondo Ok? All'altro mondo lo prendiamo Perché veniamo qua Vediamo che se noi abbiamo sbloccato Anzi se noi sblocchiamo Anzi se noi abbiamo sbloccato le bombette Adesso possiamo mettere giù le piantagioni di cotone Che usano 10 cannabis Scusami 10 Giornaleros No perché hanno questo simboletto strano Oh santo cielo Storage è pieno Progete più room allora Allora qua c'è un piccolo Tiny trucchetto Perché abbiamo bisogno ovviamente di Feltro e anche di alpaca Per produrre le bombette Le bombette servono a questi plebei A questa parte per essere contenti E quindi Volevo fare un po' e un po' A dire la verità Per accontentare tutti Però sapete che non si può mai accontentare tutti Quindi veniamo da questa parte E Facciamo piantagioni di questa roba qua Tac Ok abbiamo già finito Bravo Mike Scrivete Tac 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 Perfetto Mi dice Non c'è un magazzino Stai tranquillo Stai tranquillo Ti faccio No Beh Una e due Allora vediamo un po' Fatevi vedere un attimo Ciccini ragazzi Come manca il campo di cotone Chezzo 114 Mannaggia Mannaggia influenza fa niente, non ci abbiamo tra le altre cose i miei amici, alleati e via dicendo stanno diventando sempre più potenti e questa cosa ovviamente non ci va bene, non ci va assolutamente bene, a proposito di cose che non ci van bene, torniamo nel nuovo mondo per favore siamo a Picancicis e facciamoci un paio di casucce perché viene fuori che insomma siamo sotto di Giornalo Eros e una di queste navi che stanno qua a non fare assolutamente niente diciamo che potrebbe fare uno scambio magari, prendere qualcosina su tipo un po' di grog e potrebbe tornarsene nell'altro mondo, a posti vedete abbiamo adesso i campi cotone tutti potenti che stanno facendo cotonifici ok, il cotone dovremo produrlo abbastanza potentemente, vediamo subito che la produzione è di un minuto, non ci piace come cosa mentre qua è a 30 secondi quindi ci stanno bene due cotoni con due cotonifici quindi adesso produco in teoria cotone, bene, ci basta questo cotone? No! che dobbiamo far quindi? Espandere sto paese bravo Mike, così mi piaci quindi espandiamoci in sto paese una cosa che non mi è ben chiara, cuccioli e il fatto che io adesso in teoria per produrre l'elettricità ho bisogno di un come dire, di un ingegnere come faccio a portare un ingegnere su Picantatas? ok, la gente contenta Mike Towns sto facendo soldi appalate magari fosse così anche in realtà porca miseriaccia per quanto riguarda sta gentaglia di Picantachas Mike ha un'altra idea ovviamente abbiamo soddisfare anche i loro bisogni di bombolette bombolette spray questi si sniffano e pam e poi diventano ancora più potenti bravi ragazzi il punto ovviamente come ho già spiegato precedentemente forse non l'ho spiegato lo spiega adesso abbiamo due Picantachas di cotone che producono in un minuto quindi facciamo un rapporto 2 a 1 di conseguenza ci mettiamo solo un cotonificio quindi mettiamoci una bella fattoria di alpaca dove è alpaca? c'è una paca sulla spalla alpaca tac mettiamo giù l'alpachismo qua allora qua abbiamo i corsi abbastanza grossi quindi facciamo un po' da schifo così ci piace e dopo ci facciamo una produzione di bombolette aspetta perché devo distruggere questo e questo così così ci metto le bombolette qua perfetto vero? non sono neanche sotto di lavoratori ragazzi incredibile vado sono emozionato magazzino piccolo qua perché non sappiamo che fare perfetto già che ci siamo abbiamo un po' di mattoni un surplus di mattoni tac eccola baby siamo a posto adesso produciamo anche le bombette così ma che cazzo di problemi c'ha sta gente c'è nessun'america non c'ha niente a mangiare mangia le banane cotte e si mangiano si vanno in giro con le bombette in testa e poi vogliono le macchine da cucire ma sul serio abbiamo gli ingegneri euforici abbiamo finalmente tutto il necessario per passare all'era successiva adesso hanno bisogno ovviamente di pellice occhiali caffè elettricità e lampadine lampadine hanno bisogno di lampadine per non parlare del fatto che possono essere migliorate ulteriormente quindi non abbiamo neanche ancora finito allora è pieno di pirali da queste parti questo mi sta un attimo sulle balle se io ci mando la mia flotta però dietro a sti maledetti pirati loro scappano vanno via sono dei fifoni del cazzo tornano nella loro base a meno che io non prenda tre delle mie navi e le porto qua ok le porto a mo' di imboscata e le altre e le altre me le tengo per fargli paura questa è un'idea geniale genius baby quindi queste sono tre queste sono control 4 perfetto e contro il 4 ce le portiamo come dire da questa parte così adesso facciamo un bel sandwich di pirati e ce li mangiamo anche perché queste barchette piccole contro i miei vascelli di linea possono gran poco e ovviamente non si aspetteranno una mossa strategica di tale portata ma sapete a quando gioco con i sommergibili devo essere molto furbo che sta roba nel porto nel frattempo io stavo cercando di costruire petrolio però questi qua mi interrompono i due per tre a quest'altra parte vai via chi stai zitta oh un'altra barchetta finita bene così oh appena mi avvicino scappa ma che roba incredibile scappate villani mi conviene scappare affonda quella nave oh oh affonda quella nave oh oh affonda questi villani annaggia stanno guarda come riescono a salvarsi un'altra volta sti pilati del cazzo un'altra volta un'altra volta i pirati stanno uscendo si sentono al sicuro quindi escono dalla loro zona sicura ma adesso le mie fregate le mie navi potenti hanno intenzione di andare dietro a quest'isola fare di nuovo una bella linea di fuoco e bloccarli questi maledetti mamma mia non ce la fai mai a scappare ti faccio il culetto a stelle strisce bitch non so dove pensi di andare guarda là guarda là così imparate bastarde venire a romper le balle a mike mi domanda 24.000 mi domanda 24.000 per l'armistica ma sei scema che problemi hai bella jean la fontaine qua non si sa che cazzo fa ma continua ad entrare nel mio porto e continua a rompermi le balle le navi sotto attacco dici come vai hai provato a sparare a quello oh bene è con questo dichiaro abbastanza pulita la zona qua ci piace questo ci piace bene andiamo avanti per favore con quello che volevamo fare inizialmente tante cose sono successe in questi episodi battaglie navali combattimenti insomma inciucci e ovviamente una marea di cose nuove da fare come ad esempio produrre occhiali io voglio produrre occhiali e ti dici perché devo produrre occhiali che cazzo se mi frega di occhiali cioè sinceramente ragazzi ma cioè allora sabbia vabbè quella è facile da trovare ma poi c'ho zinco e rame che diventano ottone la sabbia diventa vetro e tutto diventa occhiali ovviamente non c'ho mai niente sulla stessa isola allora qua c'è il rame va bene carbone ferro e calcare e tipo perché da quest'altra parte c'ho zinco e carbone vabbè da quest'altra parte c'ho rame carbone calcare per estrarre queste cose qua tra altre cose mi servono lavoratori quindi devo andare sull'altra isola a fondare un'altra cittadina e vabbè fa stesso lo faremo nei prossimi episodi nel frattempo trinciamoci sulle cose importanti tanto le risorse ce le abbiamo quindi a Arnusbin dobbiamo fare un piccolo insediamento e non adesso ma quello che volevo fare adesso guardate che macello che c'è qua nel porto venite fuori da lì per favore ma quello che volevamo fare in questo episodio però sta perneggere scrivere era che è sta roba molo per pendolari consente il trasferimento della manodopera tra due più isole ma famelo subito ma famelo subito il molo per pendolari qua tac andiamo sulla smikes dov'è non c'ho cemento armato e neanche vetro mi sta dicendo nessun problema te lo porto io te lo porterò io cambiamo quindi veniamo qua portiamo poi le gna portiamo poi materie prima per prepararci cantiere di navi a vapore addirittura 500 ingegneri la grande Berta la grande Berta così poi posso bombardare direttamente la gente da casa che figata però stavo dicendovi se riesco a finire l'idea se riesco a finire la cosa che vi stavo dicendo che volevo fare qua la centrale elettrica e allora mi stavo porto a petrolifero piccolo per qualche motivo che io potrei mettere qua se io avessi madonna ho rubato il cemento adesso dove sei cotonante nave aspetta che cazzo è per fare il cemento armato ho bisogno di un sacco di cose ok fornace e calcare madonna santa la smikes dimmi che abbiamo il cal grazie grazie alla smikes grazie carbone e ferro basta Willy non voglio la pace con te non voglio la pace con te voglio costruire solo un maledetto giacimento di calcare qua che poi gli faccio una stradina aspetta dove è la stradina quindi adesso estraviamo calcare buono a cosa ci serve calcare è una bella domanda però andandosi ingegneri andando qua vediamo che possiamo fare la fabbrica di calcio e struzzo ci mette un minuto questo ci mette 30 secondi e quello ci mettono quanto ci mettono facciamo la fabbrica di calcio e struzzo a posto così adesso prendiamo un altro po' di acciaio e prendiamo un po' di cemento e ci facciamo la cosa potente bene a cosa servono gli occhiali perché se noi schiacciamo qua è fuori che un'altra classe nuova di personcine qua gli ingegneri sono sono con gli occhiali cioè capito a cosa mi servono gli occhiali bene per avere la gente con gli occhiali in poche parole come se non ci avessi abbastanza problemi ho bisogno anche della gente con gli occhiali allora e Jean Lafortune è ancora una persona molto intelligente come lo dimostra questo attacco ovviamente dentro al mio porto contro 10.000 navi che gli stanno facendo il chiuro però direi che insomma non dubitiamo dell'intelligenza di un pirata perché non si sa mai quando potremo insomma tornare contro di noi e sapete che ho paura dei pirati in maniera proprio violenta detto questo le cose stanno abbastanza bene ma non tanto bene quindi signori prima di concludere questo episodio che sono tipo due ore e passa che sto registrando sono abbastanza contento di poter venire qua spero di poterlo fare nel senso andiamo su elettricità porto petrolifero piccolo non lo so se mi serve però c'è scritto che fornisce i treni per il trasporto e consente la conservazione del commercio del petrolio quindi io per non sapere già scrivere potrei metterlo qua ok bene adesso facciamo così cazzo faccio io a salire qua ok così sì aha quindi giriamo qua intorno e facciamo così ma adesso sembra tutto collegato treno è partito il treno baby è partito il treno ciuff ciuff oh yes ciuff ciuff è partito il treno oh 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 eccolo qua il mio primo treno cucciolo migliora il porto metrolifero treno aggiuntivo aumenta lo stoccaggio no smettila di roba il mio vale io sfrutto tutto lo sfrutto anche te ma tu non te ne accorgi aha stupida allora abbiamo un treno il primo treno nella storia di anno 1800 che sembra essere venuto qua a caricare qualcosina eh risorsa strategica il petrolio c'è scritto sembra che stia caricando è finito là dentro non si sa dove è finito però Mike per non sapere già scrivere cosa fa adesso va su ingegneri va su questa cosa qua e va su centrale elettrica petrolio baby eh attenzione uh il mio trenino guarda lì il trenino col petrolio bitch benissimo ci piace non ti insegno niente non ti insegno niente baldracca che non sei altro negatore dei cambiamenti climatici è vero non c'è cambiamento climatico non c'è niente bam quindi ha capito ha capito in maniera totalmente intelligente il mio trenino svanisci interfaccia in maniera totalmente intelligente ha capito che va porta il deposito porta al centrale viene a caricare e poi riparte adesso vediamo dove va il mio primo trenino in absolutely ok neanche fossimo monstradio vampire baby stiamo producendo elettricità cosa sta dicendo questa tizia cosa sta dicendo parla la sua mini trenino ok ovviamente cosa succede adesso che la bellezza di micetown va a farsi benedire stiamo estraendo petrolio tra le altre cose e siccome non basta stiamo anche inquinando è quello che volevamo no ma lo stiamo facendo quindi ormai è troppo tardi per tornare indietro troppo tardi per tornare indietro ma è anche troppo tardi per concludere questo episodio quindi io sono Mike senza nome quello è il mio trenino e vi ringrazio per l'attenzione se vi è piaciuto spoliciatevelo e ci vediamo al prossimo episodio ciao alla prossima ciao